ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR nel video di oggi c'è di nuovo questa inquadratura per appunto potervi far vedere quello che andrò a colorare oggi spero che questa tipologia di video vi possa rilassare appunto io ho preso da questo album questo disegno non sono convinta che andrò a colorarlo tutto anzi penso che ne colorerò soltanto una parte per non far venire questo video troppo lungo in caso appunto lo divido in due parti in due video diversi questo è il disegno più adatto a youtube diciamo che ho trovato su questo album che ho qui davanti che appunto si intitola 40 parolacce da colorare con unicorni bastardi quindi insomma ho cercato il disegno che fosse più adatto appunto o meno volgare per youtube e qui con me ho un po' di colori ho questo qui che è uno scatolo dell'IKEA con appunto diverse tipologie di colori non sono troppo brava a colorare ma spero che questo video vi possa comunque rilassare nonostante appunto la mia incapacità semplicemente rilassateli nonostante appunto nonostante appunto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.